Ok niente suggerimenti in chat Quale personaggio di Shakespeare era il famoso Vabbè questo è facile, però le prime le sono le sue facili Sì sì dai è facile Culio Culio, è culio era un rapper Macio Ti stanno parlando da sopra Il primo 500 euro Certo che voglio essere migliora A rivolcare in un senso aiuti nei ragionamenti Quale fu la causa della distruzione antica città di Pompei? Vabbè il vulcano Muratore del posto Luciano Pavarotti Vabbè Luciano Pavarotti Penso che sia l'opzione più Ma che cazzo va lì? Se muro troppo Vabbè chi ne sa che Luciano Pavarotti Avrà messo i crimini Per passati i crimini La cocaina Ok qua Abbiamo messo normale non è facile 1000 euro E dobbiamo arrivare a Un milione Voglio fare le domande Dai se Quali tra questi smeri è dispari? Dobbiamo arrivare a 3000 Per svoltare 99 Ma troppo facili queste Ci siamo ci siamo 22 parola Non è No Sì Sì È Il final Anzio Let's go Dare I gas aereo Sono dannosi per il quale stato Della sua zona terrestre Eh per l'ozono Che è l'unico A Zorono Vabbè noi due andiamo su ozono 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 A Zona Ok Siamo già ai 3000 No 2000 Ma sta facendo Un roleplay con un anziano Nel senso che risponde Eh cos'è Espuma Grazie gods Surry per 4 mesi bello Un bacino Simo E un batti 5 a Giulia Ah la schiuma direi E spuma In spagnolo tipo Ma che vuol dire Non la so Io avrei detto la schiuma Usiamo un aiuto Secondo me la schiuma Guarda che non ne sono sicuro Fai 50-50 E però così Così guarda Come il coglione eh Vabbè lei li aiuti Lì siamo Lì siamo Non so cos'è Espuma Ma schiuma spagnolo sarà Ma cosa vuol dire Ma sì È la schiuma spagnolo La borra Va bene Però se è crema Eh beh Siamo degli scemi Amen Oh e let's go Abbiamo fatto 3.000 3.000 portuglie a casa E adesso Diventano più difficili Sì spero È già questa massa però Good luck to you For this new question Good luck for you In this new question Manuel Fidel Fidel Manuel È perché sai cosa Mi piatta È Manuel Castro Chi è Manuel Castro? Chi è? Previ Esiste no? Previ Esiste no? Previ Esiste Manuel Manuel Castro Secondo me Suona solo bene Nella tua testa Comunque i sottotitoli In Manuel Castro Sono i sottotitoli del film Fatto da me Oh Cosa? Il cantante Vedi che la mia mente Comunque ragionamento L'aveva fatto? La galina vecchia Fa buone risposte Cazzo dice Pablo Pazzo Non la sai Io lo so Mano non è Braccio non è Gamba Gamba penso Sì 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 gamba La gamba Io pensavo Posere il piede Peroni Perone Dai vai Se voi ci vanno I suggerimenti Ti li vedo E vengo influenzata Ok ok Non conosco le osse Io conosco solo le osse Delle cose Tipo la mano Ah giusto La tibia e il perone Non è che mi stai dicendo cose ovvie No la tibia Sai che vuole la tibia amore La tibia è quella davanti E quindi tibia e perone Che vanno sempre insieme Sono vicine Sono quelli attaccati Vai brother Quale saggista inglese Vince il premio Nobel Per la letteratura Nel 1953 No Sì No Winston Churchill Che cazzo c'entra No Herbert Morrison Ora facciamo un aiuto Dai Winston Churchill Non era quel pazzo Statista Sei l'unico nome che conosco Ma chiediamo aiuto Non lo so Chiedi aiuto Quale? A casa? Quello Che cazzo è a casa? Questo E poi sei anche sbagliato Sta Fa un culo Statista Non saggista Allora Winston Churchill Io ho detto statista Io ho letto stagista Io ho letto statista Ma chi mi chiamo il cazzo Chiamo nipote Il coglione La statista Allora è Winston Churchill Stagista Che cazzo Ho letto stagista Sbrighi porco due Ho 16 secondi Vedi Guarda che Lei sta sbagliando Mi nipote Potrebbe anche sbagliare Premio Nobel per lo stage Secondo me Ma 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 Allora gli aiuti Non servono un cazzo Non servono un cazzo Mi sembrava troppo scontato Winston Churchill Mi sono fatto bitare da quella puttana Di mia nipote Ma perché c'è stata la nipote che era una bambina? Che ne so io Ma che ne so come funziona sto gioco De merda Io l'abbiamo perso Qui son ciuccia Cazzi Faffanculo Faccio una spin Veloce Facciamo una veloce Sì 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 Qua risposte secche Vai Veloce Tipo due secondi Sì anche se il mio nonno Anche se il nonno è lento Dove fidarmi del mio istinto Mi hai fatto sbagliare Io? Mi hai fatto chiamare mia nipote Ma tu hai checcato la nipote Mi sono fatto influenzare Della voce di una bambina di merda Zitto zitto Subito Subito Quali peggio del corpo sono dei sigli Occhi Occhi Fortissimi C'è una leggenda che in cavalcò Senza vestiti per le stasi di Coventry Complimenti hai vinto 3.000 dobloni di cioccolato Enrico Tau Un classico Un classico Un classico Ma chi cazzo è? Chi cazzo è Lady Ganova? Che cazzo c'è la scelta? Così va Ganova Di nuovo Di nuovo Grazie Deloche Ci ripenso io Vai qui Vai Ci penso io Ci penso io Ma tu poi hai sbagliato Io avrei detto lei Non è vero Cos'è una patata? Un tubero Un tubero Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Basta parlare Coglione rincoglionito Del cazzo Completa questo verso di Shakespeare Se la musica È l'alimento dell'amore Mangiatene tutti O abbuffatevi Cosa che è? Non lo so cazzo Seguitemi a suonare Ma vaffanculo Shakespeare Coglione Dai Prima eravamo Più concentrati Ok facciamo Facciamo per bene No facciamo per bene Tutti comunque Spaccava molto di più Ha sbagliato il ragazzo Ragioniamo 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 Qual è Di Quale di questi È l'involcro Che dona la salsiccia Intestino Intestino Sei scemo Plastica Amore tu non sai Che cosa sono fatte le salsicce No Te le mangi È il budello Adesso me ne frega De quello che mangiano pure il McDonald's Mi caso che ci mettono dentro Ma cosa vuol dire È una cosa per favore Che tu lo sappia Pioffi a essere il prep Quella felicina Intestino Sì Non è plastica No amore Che plastica Nella celebre fiaba Cosa cresce Dei semi di Jack Fa piante di fagioli Fagioli Devo ripiantare i fagioli Perché è un fagiolo Quello che mette No Sì Non è una pianta magica Sai che vai in alto E basta È una pianta Di fagioli Altissima E cos'è che faccio Perché doveva andare in alto Per i giganti Non mi ricordo per niente La storia Jack Raggiunge i giganti Neggi Tra l'altro Lì C'era La cacca con le uova d'oro La galina con le uova d'oro Anche Non mi ricordo Per quale di queste attività Vi hanno usato un abaco Contare Arraficare Vedi Gallina dalle uova d'oro Non mi ricordo Spera insomma Se si aggiunge Un secolo A una mezza dozzina 106 15 No Dozzina e 12 Un secolo A una dozzina 106 Dozzina Sì No 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 i 12 12 Sì Una dozzina Quanto è il 12 12 Non lo sapevo No è vero Non lo sapevi Beh Ce li potevo arrivare Quanto è il 16 Forse Tanto Di quale paese È originario Il Po Vietnam Perché Il Po O in Thailandia Viettlandese o viettramita Il Po Thailandese Non tailandese mi sa Il Po Non lo so Viettram Cazzo Che c'è Dovrei soldi Mica dovevo pensare No ci vediamo davvero Vabbè Nella mia mente Nell'informatica Quale di questi termini È associato alla compressione Di un file Per ridurre Lo spazio di creazione Zip Velcro Pulsante Ma che cazzo è Punto pulsante Nel corpo umano Dove si trova Il tendine Del Carretto Piede Ma che cazzo Dici Piede I tendini Stanno ovunque Appunto Appunto Però un tendine famoso Vuol dire che è una cosa Che si rompe spesso Quindi piede Fai 50 Ok Che cosa è un garretto Cosa ricorda Un carretto Ma non ha nessun senso Questa cosa Queste patatine Le vomito Porco dio Emo No F*** Accendiamo E la gamba Ho perso Tutti i soldi Amore Comunque Sta diventando Più difficile Ho perso Tutti i soldi E il tendine Nel muscolo Di tolta la coscia Questo E due Te lo ricorderemo Andiamo a far colo Che sono rotto Il cazzo Andiamo a dormire Dai un consiglio Ai ragazzi Da seguire Non so Perché non staccherete Più gli occhi Da Nububu E io face E io E io Mi